Tempi di crisi, tempi di bollette pazze, tempi in cui la popolazione ha bisogno di sapere anche come difendersi in situazioni poco chiare o pericolose che possono avere a che fare proprio con i contratti per l'energia. Il primo incontro lo faremo a Mussolente il giorno 28 prossimo, ottobre. Il secondo incontro verrà fatto a Marostica l'11 novembre. In questi incontri spiegheremo ai cittadini come tutelarsi, soprattutto in merito ai paventati aumenti del gas spropositati e della corrente, come leggere le bollette e soprattutto come difendersi da eventuali truffatori. Agli incontri parteciperanno anche i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio per rendere ancora più incisiva l'informazione nei confronti dei cittadini. L'incontro abbiamo invitato ovviamente anche le forze dell'ordine, così spiegheremo anche magari in maniera più precisa come difendersi in maniera particolare proprio da eventuali furbacchioni, tra virgolette. Tutto bene quindi, però c'è qualche sassolino che l'Unione dei Consumatori vuole togliersi dalla scarpa. Mi spiace dover dire che il Comune di Cassola invece ha chiesto di essere pagato per l'utilizzo di una sala. Noi ribadiamo che siamo qua per fare un servizio pubblico, noi siamo qua a disposizione dei cittadini, ovviamente come associazione nell'ambito delle proprie prerogative e quindi spiace vedere un'amministrazione che ci chiede un corrispettivo per un uso pubblico di una sala e soprattutto per nell'interesse dei cittadini.